Ciao ragazzi bentornati qui sul mio canale Oggi ragazzi siamo qua tornati in un nuovissimo video Perchè oggi cosa andremo a fare ragazzi? Oggi andremo a disputare tante partite importanti ragazzi Quindi cosa giocheremo? Giocheremo questa partita con i Mainz E poi giocheremo altre partite Tra cui una di Champions probabilmente Se parliamo contro i Mainz Per quanto riguarda questa partita allora Non voglio fare grossi cambi vi dirò Metto solo quagliata al posto di Grimaldo E poi voglio mettere Anzi no voglio fare un cambio per un modlato Gioca difensore E dentro Cameron è al posto di Kavak Ok ragazzi siamo tutto pronto per questa partita Mainz un'altra partita Bravo Juranovic Juranovic Becker Vodou Vodou se gire un fazzoletto Vodou 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 Da Bè i PAINZ Da Tanglo Cross messo dentro Rimane lì Il Tiro Non ancora monumentale Su Bò 2 M ног Vodou Melendi Cross dentro Colpo di testa di Eriine Poi Tower 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 Bravo Poi il leveling Poi il leveling Mecha 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 Grappare questa Sceraldo Becker che è velocissimo Becker, Becker, uno contro uno Parata del portiere Se l'è divorato Sceraldo Incredibile errore di Sceraldo davanti al portiere Mecha, Mecha, c'è anche Becker Mecha, se l'errore Sceraldo Sceraldo si deve rifare Sceraldo Becker, Sceraldo Becker, fuori di nulla Quagliata Su Melendo, ancora Oscar Melendo Melendo, Melendo Palla dentro, bravissimo Bravissimo qui Ginter Fondante nella relazione Morita, sono trentasisimo Sempre 003 le squadre Morita, squaglia il filtrante Ma c'è Kevle che recupera un pallone Molto molto importante per lui Becker, Becker, dribbling Niente, Becker in difficoltà Morita poi bravo, niente la farà ancora Poi fuori Becker Dentro Balde, questi sono I due cambi Hanno usato Ero il tutto Balde, Balde si gira Balde, Balde che cosa ha fatto Balde, Balde Calcio Appena entrato Sblocca il risultato Balde Mamma mia che giocatore In questo momento sta meglio di Becker In questo momento sta meglio di Becker Zero a uno ragazzi Gran giocata ragazzi Gran giocata Sombrero E' più calcio Oscar Melendo Gran Pallone per Boadu Boadu contro Bartra Boadu Bartra Fa la cosa migliore possibile Spaccato Boadu Sarà E' cartello giallo Per Bartra Il cross intanto Colpo di testa Rete Un'ora Ha segnato il Mainz Goal di Stax Pareggia subito i conti E' meritato Non mi Non mi sto facendo La partita Colpi di testa Ronno non può nulla Incredibile Lo di Stax Balde Balde Noo Balde perde una palla Bruttissima Stax Boadu Boadu Gran palla Interessante Tacco Kent Ronno Cosa ha preso Cosa ha preso Ronno Ancora Spigel Minds Ronno Rimane lì Geronovic Incredibile Stiamo giocando male Non mi sta piacendo La partita Geronovic Bartra Sbaglia tutto Incredibile Ronno Poiato Mecha Levelling Levelling Da che ci arrivi Da che ci arrivi Levelling Levelling E' velocissimo Levelling Dei al Musrati Al Musrati Hanno fatto Al 92esimo Al 92esimo Nonostante una partita Brutta E' sporca L'Union Berlino Riesce a vincere Al 92esimo Quella al Musrati Incredibile Incredibile Quella che è successo Incredibile Levelling Sarà un buon pallone Al Musrati Che la mette dentro 1 2 Contro il Bayern Voglio fare Tanti cambi Però Dei cambi Che possono essere utili Secondo me Allora Purtroppo ragazzi Grimaldo E' rotto Ancora Pure è calato Di oro Quaiata Mi è piaciuto Dentro Poi direi Fuori Che potremmo mettere Fuori Mecha Dentro No Endo 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 ha prevenuto Non gioca Becker Gioca ancora Baldelli davanti Con Maciejesca A destra A sinistra Gioca Levelling Questo si O Zunali In panca E poi direi Non lo so Da questa formazione Andiamo in campo Contro il Bayern Ok ragazzi Ci siamo Tutto pronto Per Union Berlino Bayern Si parte Morita Bayern Niente Niente Occhio Ronno Ronno Sulla conclusione Di un gioco del Bayern Monaco Grave C'è gran Feltrante Per Maciejesca Servito Maciejesca 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 Servito Baldelli 1-0 Gran Giocata Gran Giocata E non Lombardino Passa subito Passa subito Gran Gran Pallone Maciejesca Per Baldelli Che la mette dentro Incredibile La mette dentro Osimene Osiala 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 Osimene Ancora Kabak Finisce giù Niente Allora Arriva la conclusione Ginter Il rigore Il rigore Sarri Bayer Monaco Fale Quinta Su Jamal Musiala Guardiamo Si E fallo Colpisce Da gambo Il rigore più importante Parte Osimene Niente Ronno ne para uno Non ne para uno Ronno Non mi ricordo Un rigore parato a Ronno Forse 2-1 Incredibile È rimasto centrale Niente Musiala Osimene Osimene Musiala Filtrante Ancora Musiala Calciaronno Bravo Maciejesca Erroraccio Osimene Calcio Osimene Questi gol qui no Questi gol qui no Ragazzi Quando prende Questi gol Mi arrabbi troppo Ma come si possono prendere Guardate Siamo organizzati Non c'è niente a fare Comando Musiala Sabiz Osimene Occhio allo scambio Musiala Musiala Per chiudere Ronno Morita C'è anche Maciejeschi servito bene Maciejeschi C'è Balde Servito Balde Fuori Cosa si è divorato Balde Bresca Rimane lì Occhio Osimene Niente Niente E' chiuso 3 euro Ma è giusto così La scorsa Non la meritano di vincere Questa neanche Finita 4-2 La seconda opzione Ha segnato Di Apri E poi Balde Francovorte Ha pareggiato bene Francovorte Non ha vinto Grazie a Dio Però Francovorte Ha pareggiato bene Ha fatto il Wolfsburg Intanto Ah deve giocare Perfetto Si va a Francovorte A 45 punti Se c'è C'è Mannaggia Rimaldo Non torna Ragazzi Mannaggia Dio Niente Vediamo un po' Vediamo un attimo Cosa ha fatto il Wolfsburg Ragazzi Noi siamo settimi In Wolfsburg A Pinto Siamo meno 8 No ragazzi In Champions È difficilissimo Andare in Champions Ed è un qualcosa Abbastanza clamoroso Questa partita È cruciale È la partita Forse più importante Dell'anno Fino ad ora Sarà tosto Sarà molto dura Dentro lo Sion Ed in panchina Questa è una promozione Si ma incanto Ok ragazzi Ci siamo Tutto pronto Biglia Real Union Berlin Bisogna vincere Match Becker Becker Brecker Prova di scattare Becker Becker Calciarete Subito Union Berlin Passa 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 È 0 a 1 0 a 1 In casa Biglia Real Union Berlin Subito comanda Almeno per ora Grande azione di Becker E guardiamo qui 1 contro 1 Non sbaglia 0 a 1 Per Union Berlin Match C'è anche Becker Match 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 Servito Becker Becker Finta Becker 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 Se ne va Becker Becker Rete 0 a 2 Union Berlin In 9 minuti E in vantaggio Di quel gol Clamoroso 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 Il Biglia Real Al momento E K O Al momento Gran giocata di Becker Che calcia Non può rurre portiere 0 a 2 Amostrati Becker Rimpalla a favore Becker Becker La scucchiaia Dentro E De Gea Fa un miracolo Fa un miracolo Caccia l'angolo Morita Dalla bandina Il cross Musrati Colpi di testa Niente E la reglia Bravo Felipe Anderson Felipe Anderson Finta Felipe Anderson De Gea Ancora Stiamo dominando Stiamo dominando Ragazzi Morita Colpo di testa Ancora De Gea Che nega Lo 0 a 3 A Ginter Kabak 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 Trigger Becker 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 Passa da 2 Becker Becker Cosa ha fatto 0 a 3 Magnifici 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 0 a 3 Trepletta Trepletta Becker Che deve scattare La perfezione Dieremi Pino Dieremi Pino Dieremi Pino Ancora lui Dieremi Pino E' veloce Dieremi Dieremi Pino La mette in mezzo Il Vireal Segna l'1 a 3 Rete Diereal Che riaccorcia un po' Le distanze Gran giocata di Dieremi Pino Diereal Riaccorcia un po' Il tutto 1 a 3 Triggeros Battuta corta Bravissimo Juranovic Juranovic C'è anche Felipe Anderson Sono servito Meraviglia Felipe Anderson Felipe Anderson Felipe Anderson 1 a 4 Chiude Ogni tipo di discorso 1 a 4 Direi che possiamo andare a simulare A sto punto E fare qualche cambio ragazzi Massimo ci vanno un gol Becker Ragazzi Al posto di Evelin Mi può andare bene Bartara Al posto di Kabak Entro anche Oksunay Al posto di Morita Anche perché c'è una partita importante In campionato Dentro Kamblin Nel posto di match Questi sono i campi Non posso Se riusciamo a tenere Questi risultati Gol fondamentale Felipe Anderson 4 a 1 Ragazzi 4 a 1 Vi ha un po' Quanto finisce ragazzi Vi ha un po' 2 a 4 Va bene ragazzi Un gol Alla fine Dovremmo farcela Dovremmo farcela Almeno è clamoroso Sorpresa ragazzi Dovremmo farcela Ma l'importante Era vincere Non mi aspettavo Di vincere così Faccio in mente Dove essere onesto Dove essere onesto Eh Si ha messi male In campionato ragazzi Inutile negarlo Ci rispetto Un'ultima partita Con l'Ipsia ragazzi Che andremo a giocare In questo video Ok ragazzi Partita contro l'Ipsia La scuola che Sta domiando Questo campionato Bisogna fare Una gran prestazione Dobbiamo Ireal Meritato Dobbiamo Convincere Dobbiamo convincere Voglio fare dei cambio Ovvero dentro Campionato A posto di Cabac Metto Quagliata A sinistra Metto Quagliata A sinistra E poi per il resto Non voglio fare Altre sostituzioni Si va Partita Contro L'Ipsia Ok ragazzi Ci siamo Tutto pronto Per questa partita Non berli L'Ipsia Si va Serve Leveling A sinistra Un gran pallone Leveling Leveling Calcio Gulax Chiude lo specchio Quagliata Con un tre Intanto Quagliata Il cross Dentro L'area di rigore C'è Felipe Anderson Felipe Morita Yuranovic Yuranovic Il cross Dentro Per l'Epsia Di rovesciata Stava Facendo una gran cosa Siamo partiti bene Con calma Felipe Anderson Yuranovic Servito Yuranovic Scappa via Yuranovic Il cross Dentro 1 a 0 1 a 0 Passano Non berli Leveling Leveling 1 a 0 Che go Ragazzi Che go Vediamo qui Gran cross Gran cross Di iranici Dalla destra Colpo di testa Di leveling 1 a 0 Morita Morita Allarga Felipe Anderson Felipe Anderson La mette dentro 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Raddoppia Lora Berlin Con il suo Ormai marcatore Geraldo Becker Il 27 Raddoppia 2 a 0 Geraldo Becker Mamma mia Morita 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 allarga Allarga a destra Felipe Anderson Metti dentro Scheraldo Becker Brandina Brand 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 Fermata Quagliata Brand Grappallone 3 a 0 3 a 0 La partita All'inizio 2 a 0 Però poi doveva succedere Purtroppo così Morita 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 Becker 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 servito Becker 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 Trova Becker Finta Becker C Morita 3 a 1 Morita E' il secondo tempo Realizziamo la rete del 3 a 1 Morita Gran palla di Geraldo Becker Ti vediamo qui Finta di Geraldo Becker Pallone per Morita Che la mette dove Chevalier Non può mai arrivare Morita Morita riceve Allarga a destra Per Felipe Anderson Felipe Anderson Felipe Anderson Finta Rientra Felipe Anderson Chevalier Mostruoso Mostruoso Un pochino Brand 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 Palla Sorlotto 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 Palla fuori Occasione di L'episcia T 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 L'azione Costruita Bene 3 a 2 Ricordiamo qui Eh Peccato Eh Troppo Scoperto S 3 a 2 Sbaglia Camberlin Cavolata Di Camberlin Cavolate Camberlin vedere per forza di cose fare fallo non so quale sarà il cuore di un posto più grosso perché ammettiamo in 10 incredibile io credo come cambiano le partite come vale partire primo cambio obbligatorio per campo ok io cambio obbligatorio rinuncio a mezzo e per forza di cose tabac che va a fare il centrale per l'espulso non ha mai espulsione ma ormai chi fa così ben aspettavo perché chi fa così ripeto detto questo comunque non è un'espulsione gravissima perchè possiamo metterci i cambri in quella posizione non è finita non è finita tabac la porta la porta qui ed è finita l'unambarino vince contro l'ipsia per 3 a 2 senz'altro senz'altro molto complicata ma era inevitabile era inevitabile un po' cosa hanno fatto gli altri Dortmund ha perso bene bene così superiamo il Dortmund bene vediamo un po' cosa ha fatto soprattutto l'Ausburgr cioè si volevo dire il Bordurg vediamo un po' perchè noi siamo sesti abbiamo superato il Dortmund vediamo un po' il Bordurg no niente deve giocare deve giocare dipende tutto dal Bordurg ragazzi dipende tutto dal Bordurg vediamo un po' parte dei trasferenti di Morita no intanto è tornato Grimaldo ottima pedina per noi vediamo un po' che l'ha fatto il Bordurg che ha vinto niente ho vinto il Bordurg il punto è che ragazzi mancano 12 giornate la vedo male sincero detto questo questo video finisce qui noi ci vediamo al prossimo video quando giochiamo a parte contro lui contro l'Aertrump ciao ragazzi ciao